Tutto cancellato dalla prescrizione. Il processo a due ex amministratori di Pomezzi accusati di tentata concussione è finito con un proscioglimento. Sentenza di condanna annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione. Dopo aver subito il 23 settembre 2008 anche l'arresto, gli ex consiglieri comunali Alessandro Tucci e Filippo Claudio Libertino sono usciti così indenni dal giudizio. La vicenda riguarda l'ex collegio universitario Selva De Pini. I due presidenti che si sono alternati in quel periodo alla guida del consorzio Sports Campus riferirono agli investigatori di aver subito pressioni da parte dei due politici che volevano, anche tramite prestanome, la gestione dei campi da tennis. Secondo il sostituto procuratore Giuseppe Travagini si era trattato di un tentativo di concussione portato avanti con la minaccia di ritardi nel rilascio di titoli e licenze da parte del comune. Ma ora in Cassazione la prescrizione ha cancellato tutto, anche se i giudici hanno specificato che non ci sono gli estremi per una decisione più favorevole. Tucci e Libertino sono stati dunque prosciolti ma non assolti nel merito. Tucci e Libertino